Fabrizio Bagheria ti abbiamo riportato tra i pali, questa porta te la ricorderai per un po' vero? Si è stata una partita che abbiamo dominato sotto il possesso della palla, siamo stati sotto i due gol per due gol stupidi che abbiamo preso, poi siamo riusciti a riprenderla grazie alla qualità che abbiamo e poi alla fine lotteria dei rigori e si sa proprio che è una lotteria però siamo riusciti a scamparla e andiamo ai quarti. Comunque tu ci hai messo del tuo nel senso che una volta sul pallo lì hai ipnotizzato però quello precedente? No è stato un rigore difficile perché sono smutato sulla mia destra, la palla era la centrale, sono riuscito a prendere con la mano di richiamo e la traversa mi ha salvato. Fino a questo torneo di Viareggio eri imbattuto voglio dire fino alla partita di oggi e dopo vabbè qui due gol lì che hanno messo un po' di sale alla partita insomma. È un po' un peccato non avere più la porta inviolata però è sempre un piacere aver passato il turno e adesso ci godiamo la vittoria e adesso prepariamo i quarti aspettando di vedere contro chi si gioca e prepareremo al massimo la partita e poi ce la giocheremo contro chiunque. Grazie.